Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video Questa volta siamo su League of Legends Me lo avete chiesto in tantissimi E sono anche in compagnia di Il Sante Ciao E anche di mio fratello Onnig Ciao a tutti Ok siamo qui per un partitone Spero di fare oggi anche perchè non gioco a LOL da svariati mesi Quindi speriamo di fare bene Mi prendo Queen e vediamo un po' Iniziamo Dove cazzo si sta il tasto start qua? Voi due avete messo gli stessi tantici ruoli invertiti Ah ok aspetta tolgo io il secondario Se esce Jungler ci facciamo grazie risate In teoria io sono di Lega Alta Quindi se vuoi cambia account No vabbè tranquillo Tanto pure io sono di Lega Alta Altissimo Sì tipo non classificato Sono a rank è vero Ma con Queen mi sentivo un oro tranquillo Non era oro te lo assicuro Era platino Lui si sentiva oro con Queen ma Queen invece si sentiva legno Ma come legno? Ma quale legno? Allora devo bannà io o devo bannà? No a tutti Devo bannà Bannà un campionato da quando ci hai giocato tu Ah ma posso bannà il mio preferito? Mhm Goal banno Caitlyn Una grandissima troia C'era che bannà? No Banno Queen e ci sono problemi? No non bannate Queen Che cazzo è successo? What? È uscito Non ho fatto in tempo a scrivergli brutta testa di cazzo Oh se bestemmia non ce l'ho con te Forse sarò io che bestemmia ero su di te sappilo Eh può darsi Ma quasi Anzi Mi pare di non averlo detto Il canale del zante l'ho trovato in descrizione Ovviamente me l'ho scordato prima di dirlo Ah tipo posso andare full AP e rubarti tutte le kill? O ti devo lasciare fare la stella del video? La vera domanda è ma quali kill Dei rubi a Snow? Eh ascoltate qui la partita sarà dominante da parte di Snow Sarà un AD barra AP carry Che le opzioni sono omega quindi Me lo faccio pure AP così faccio più male con la Q Ma chi? Non lo so se faranno AP Non lo so se faranno AP Fate iniziare questa cazzo di partita Sono 25 minuti che stiamo nel menù Comunque il bello di LOL è la velocità con cui entri in partita Mi piace Cioè c'hai poco tempo C'hai quel tempo così che devi uscire Ma ti vuoi fare una partita a qualcosa Il gioco giusto è League of Legends Sì C'hai 5 minuti liberi o la bella partita a LOL Porca troia Vabbè quando tu stai per morire Arriva il dottore e ti dice Guarda hai soltanto un'ora libera Che cosa fai? Un game a LOL Eh ma se ce la fai Se ce la fai Perché con un'ora potrebbe andarti storto 20 minuti di ricerca è partito da un'ora e 10 Ed ecco qua che Sei andato già oltre A benvenuti nella landa degli evocatori Il tuo cuore si ferma Esattamente La bot non mi piace per niente No no Espa chi c'è bot? Rakan e Ezreal Rakan è un buone che me l'ho mai visto Io non l'ho mai visto No non so che cosa fa Sto pure con il sante support Che è un gold 1 Cioè mi carri alla lane Questo gioco secondo me fa la felicità dei produttori di mouse Da vero Orca troia si sembra clicca Dai pushiamo la giungla a sto tizio Che speriamo che ci ricompensi con una vasta gamma di gank Fatti bene però Fatti bene Aspetta questo chi è? Ma in prega chi è la dcarry dei due? Tutte e due? Questa è qua Questa L'altro è un support Si prende ancora più Si salta addosso molte volte Ok Buona sapere Mi prega che mosse fatti? Tra il volo? Salta addosso? Cura che fa? Ti attacca da lontano Devo beccasso un sminion Vaffanculo Eh dai no Non ci zonnate sotto torre Beccasso stronzo No vaffanculo Ecco la mia farm No Eh dai Che tempismo No vaffanculo No ce l'hai adesso? A tutta Vai cazzo Big farm Big farm Oh 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 Bella bella Oh cazzo l'ho missato Però bellissimo Bellissimo Oh grab Grab Oh No 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 Vivo vivo Datemi la pozza Oh no double farm Dovevo tenere la Q per quella double farm Mi attengo al piano Ah no vale l'ucciallo Non so io vaffanculo Oh saltiamo addosso a quel tizio Ah no Che nabbo che sono Oh nice Anche questo so E daie che ti becco Il marchio Vediamo un po' Ce li dobbiamo acchiappare Li dobbiamo acchiappare e li dobbiamo fa male Di qua Oh per poco i brividi Il farming è potente Ce l'ho beccato 37 Lui quanto ha fatto? 55 What the fuck Pensavo di sta spaccare il farming Sto a fa cacà dai Allora ci serve un gank Sta arrivando Sta arrivando Dai a tutta Gank fail Non fa niente Non fa niente L'importante è apprezzare la buona volontà del jungler Dove vanno? Dove vanno? Cioè mi ricordo addirittura i tasti per pingare Andiamo andiamo Arrivo arrivo Becchiamoli abbiamo incastrati cazzo Merda li facciamo Dai che arriva Oh shit Via di qui Via di qui Mi sta pure a beccare il drago Ma ho fatto malissimo C'ho 1600 oro Devo scioppa La spada Oh io me lo provo a rubà Me lo provo a rubà Oh 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 Il drake si che ce lo possiamo fare Nautilus è esperto Di lol consiglia e quindi arrivo E' nostro il drake è nostro Se lo proverò a rubare con una q Ma me lo provo a rubare pure io con una q Ok la mia q è stata meglio Qua mi ha zonnato Facciamo il giro meglio non strafare Perché poi già lo so che va a finire male Potevo forse saltare su quella pianta Io ti lo giuro lo sai io non so come funzionano le piante Solo quella che ti cura Ok avanza adesso un po' Avanza adesso un po' merdaccia Ci stai ci stai Ok Vai su questo Vai cazzo doppia uccisione E snow inizia a carriare La partita ragazzi Cioè così si fa Così ti fa guardare il double farm Tripla quadrupla farm Ragazzi cioè basta Ho già vinto ho già vinto Siamo al decimo minuto E snow ha svoltato In realtà avete fatto tipo tutto voi Ho fatto solo la kill Ma Alla di carri l'ho aggredito malamente E gli ho beccato ben due marchi Gli ho fatto più di mezza vita Se scioppo il vantaggio L'ho sciotto Allora me ne vado per di qua Ma dove va che ti tiro due coppini Ti uccido Ignoro l'opinione dei più esperti E faccio boom Si vogliono push alla torre Ma gli arrivo addosso Con la E Ti prego rimani qua Ti ho già cliccato Ti prego Ti prego c'è il flash in 15 secondi C'è il flash in 15 secondi Ma che cazzo è andata sta merda Vaffanculo Mi è scappato Mi è scappato Ma non mi darò per un minuto In questo momento Lui sta a 2-2-1 Con 107 farm E io 3-2 Sta arrivando Stop Perfetto Ci siamo Ci siamo No cazzo Ma preso Vaffanculo Ho flashato pure male Dai almeno fatelo Vi prego No double kill Oh no 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 Non fatelo succedere No no È successo Ok Dobbiamo Dobbiamo essere convinti Sare calmi Riprendere il controllo Della situazione Merda Sto perdendo un sacco di farm Con quella torre del cazzo Qui non si sa dove sono Forse dobbiamo andare a mid Dovrei prendermi una torre Allora vado a prendermi una torre E così mi prendo pure personal farm Allora È scarso Merda Riente forte in sto game Ci sto soltanto io Merda Siamo fottuti allora Vediamo un po' Dobbiamo difendere questa tower Vediamo un po' Lì c'è un drago Un drago Stanno a fare il drago Il drago Arrivo Cazzo Aiutatelo Aiutatelo No Dai Oh no 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 Merda 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 No Cazzo Ci stanno pian piano Ci stanno pian piano divorando Nel momento in cui ho iniziato a dominare pesantemente Ma poi No che prima Dobbiamo un attimo recuperare le sorti di sta partita Devo fare qualche kill per potenziarmi Questa è la realtà Così con i miei super damage Il mio piccione gigante Andremo alla vittoria Dai Detto così Sono male Il mio uccello enorme Guardate Guardate che uccello ragazzi Vai qui 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 Ah c'è Kha'Zix C'è azione Si sfondano Kha'Zix è la marmellata di Kha'Zix Va Bam Eh Paura eh Come si sono presi tutti paura Oh No Ma mi ulta Ma mi ulta No ma mi ulta Oh 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 Dio Ragazzi Che nabbo che sono Andiamo di qua Allora Ci dobbiamo credere per vincere questa partita Non ci sono Per lo più altre soluzioni Il mio shop alla spadina a velocità Sono in supporto di Fiora Ce l'abbiamo È nostro Sto timo di merda E invece no Invece no Ma pure fungato Vaffanculo va Arrivo Ce lo spariamo Questo Una botta di zuccheri ci dà Grande Arrivo Arrivo Wow 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 E non rompete i coglioni Sto ammazzando il mio ad carry Vaffanculo Ok Sto facendo fidare forse Sto facendo fidare Vai Almeno riparte Già piccione No Che cazzo Mi ha fatto malissimo Non lo so No Era una Q Oh Vabbè Cioè io Recollo Perché mi sto Con troppa poca energia No C'è il fight C'è il fight No Non c'è il fight Oh merda No no Non fightate Non fightate No non fightate Io recollo Non fightate Come fightate Non fightate Io sto zonnato Sto zonnato No No Cazzo Lo sapevo Ma perché C'è un fight così No C'avevo mezza vita Era un easy target Sta merdaccia Grabatelo Cazzo Stiamo andando oltre No Sì Vabbè Dai C'è Già mi ha tolto mezza vita No Non pushate troppo Non mi va a finire male Arrivo A questo punto Arrivo Uno Oh No 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 Cazzo No Che palle Quanto siamo 29 16 Solo un miracolo Praticamente Si deve rompere il computer A A Ezreal Non ho ancora preso lo static Che tristezza Mi serve Mi serve Non lo so Cosa mi serve Aiutatemi Voglio vinterlo Oh Attenzione Fottete real Fottete ezreal Fottete ezreal Sto arrivando No 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 Chi ha il target Oh Dai Dai Cazzo Cazzo Vediamo Non stanno qui Ma dove vai Non lo so Non lo so Non lo so Di qua Di qua Stavo Stavo andando sotto torre No Allora Vado back Gioco safe Gioco safe Faccio il giro di qua Aggredisco Teemo Oh merda Oh merda Flash Dai la kill Grande Grande Vedete 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 Tutto Grazie a Snow C'è poco da fare Io carry game Anche se non in kill Ma in idee Ecco Io carry game Con le idee Vediamo Di qua 800 Si sono presi un drake Ma tanto noi vinciamo senza drake Ok Ok Il baron Il baron Si sono presi il baron Mi rubo Ho capito Mi devo rubare la giungla Al jungler Perché tanto non ci fa niente Quell'export Dai Saltate Oh Brividi Io rimango qui Nelle retrovie Non devo essere un easy target Cazzo Stanno baronati Io mi devo buttare Su Ezreal Borcatroia Mi nascondo qua Mi nascondo Lo becco Allora Sto pronto con la E Come ingaggiate Come ingaggiate Li smerdo Allora Come usa due spell Vediamo Me ne vado di là Me ne vado Oh merda Che male No Non vi preoccupate Mi trasformo in piccione Recupero energia E vado aiutati ora Palesemente in difficoltà Però è in difficoltà Anche la mid lane Quindi andiamo A aiutare mid Il push Oh Attenzione Arrivo 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 Non rimarrà Non rimarrà Così Oh merda No 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 La disperazione Più totale No Epic Tristezza Fail No Eh Non sono riuscito A carriere abbastanza Dovevo carriere un po' di più Dovevo carriere un po' di più Ma vabbè Sono un po' freddo Che cazzo ne sono Ci gioco da una vita Dai Abbiate pietà di me Fatemi ripartire Devo andare a svoltare Kazix Boom Ciao Kazix Ciao Ciao One for one E ciao Bello Tolto un damager Per un damager Poco fiddato Cioè me Attenzione Big damage Su Timo Ma vediamo che per poco Non viene pulverizzato Che Attenzione Osa Osa troppo Ma vediamo che Onnige Di lagna Una volta per tutte Dopo aver fatto fuori Tutto il team Ezreal Nemico Che tristezza Signori Che tristezza Ci è rimasta soltanto Una torre Davanti al Nexus E tutti i ricordi Per cui non gioco più A questo gioco Stanno riaffiorando Nella mia mente Ecco Snow Che riparte Big wave bot Mal di gola top Bevo l'acqua Colpo di static Faccio fuori tutto Attenzione Farming pericoloso Arrivano tutti i bot Mi fanno Al 100% Di qua Dobbiamo recuperare Partite così Le ho già vinte Nella storia Le ho già vinte Signori Le ho già vinte Partite dove davano Tutto per scontato I nemici E invece Un ad carry nemico Che non ti aspetti Ti risale da 5-9 A 15-9 E svolta la partita Andiamoci a prendere Il red Oh shit Aiuto 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 No Ho sprecato pure Flash Oh shit Ok Il nemico è stato ucciso La stiamo riprendendo La stiamo riprendendo Attenzione Una rissa mega galattica Dove avere alla peggio Ovviamente Il nostro jungler Va benissimo Anche la torre Mi sta saltando Addio All'inibitore Guardate ragazzi L'unica Lane che ha retto Guardate L'unica Lane che ha retto Dell'unico Che davvero Ha fatto Ha dato un Diciamo Una scossa A questo game Devo shopparmi 1.4 Anche se so Che non serve a niente Attenzione Però Prendo un'arma Molto potente Mi trasformo Il piccione Arrivo Aspetto Il momento Più opportuno Per Oh no 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 Vado su Ari Non vado Su Ari Non vado Su Ari Ci ho ripensato Vabbè però Non possiamo Lasciarlo così Non possiamo Non possiamo Dobbiamo sparare Colpi a cazzo E vaffanculo Abbiamo perduto Abbiamo perduto Abbiamo perduto Shit 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 Che devo fare Devo votare Onora un compagno Allora Onnig Onnig Per il GG Anzi Onnig Stratega Poi Onnig Ah ma solo uno Ne può enorare Pensavo tutti Shit Ok E con questo ragazzi Punteggio Super dignitoso Mi sono ricordato Anche Del perché Non gioco più A League of Legends Ragazzi Perdo sempre Cioè è terrificante Questo gioco Non mi ridà Per niente Ma ogni tanto Qualche partita Così ce la faremo Sicuramente Anche magari Con una squadra Completa Ci faremo Grassrisate E quant'altro Quindi per questo video È tutto Vi invito a lasciare Un bel like Un commento Fatemi sapere Che cosa ne pensate Le mie fantastiche Prestazioni In questo game Dove purtroppo Il mio team Non mi ha secondato Ma dove comunque Si vedeva Che l'AD carry Stava spingendo Ed era un po' Oltre Ma vabbè Che cosa ci vogliamo fare Ringrazio Onnig E il sante Per aver giocato Insieme a me Ovviamente Ciao E ci vediamo Come sempre Nel prossimo video Ciao